Cari fratelli e sorelle, con la celebrazione nella basilezione eucaristica di San Pietro, si è conclusa la dodicissima assemblia da mani, in area generale orte del sinode dei Veschi, ha avuto come per tema, secondo il significato originario del termine fanno, Ne dic ne dic ne dic Por だia. Por cava dogma pufca di Dio Por coda di Dio Dioilles per le ddepo di prince di pregio di Parche di Parche di Parche di Plaquesne del cheek da Maria fate di learning parte di Marte di! En matria! Porcogria! Que solo batona Spera di porte di Parche di Parche di faldere Continuami, se stessa nella nextità You know,ườnò Strandina Sepoli Chiarà ragazzo allein sta tornare Non ad insider oh Voro male e l' baja Magado vener vasta Voro male e l'ιά Vero v нacional di non mi sai Ho mio loro madre Voro male Voro male Vero male e l'azienda Grazie a tutti